Pena ridotta, anzi quasi dimezzata, per il cinquantenne che a Pozzo della Chiana aggredì la moglie con un martello, colpendola più volte alla testa, da 6 a 3 anni e mezzo di reclusione. Era il 12 dicembre del 2022, quando l'uomo l'aggredì all'interno del loro appartamento. Una tragedia sfiorata, la donna si salvò chiedendo aiuto in strada ai vicini. Fu portata d'urgenza in ospedale a Siena, rimase in osservazione per alcuni giorni, ma fortunatamente le lesioni craniche alla fine risultarono meno gravi di quello che poteva sembrare inizialmente. I carabinieri arrestarono subito il cinquantenne, processato, corrito abbreviato ad Arezzo per tentato omicidio, dopo lo sconto di pena, fu condannato a 6 anni. Adesso a Firenze la Corte di Appello ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, da qui la riduzione a 3 anni e mezzo. La posizione del cinquantenne si alleggerisce anche dopo il ritiro della querela da parte dell'ormai ex moglie, presentata in questo caso per maltrattamenti. Il cinquantenne si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dell'appartamento di Pozzo della Chiana. Nel frattempo ha già risarcito la donna.